Siamo in compagnia di Alessio Cocchi, Marketing Manager di Comau Robotics. Allora, come sta andando questo Max Pay 2016? Direi molto bene, già diversi anni che partecipiamo all'edizione della fiera, possiamo dare un feedback positivo, specialmente in apertura, come primo giorno notiamo un buon flusso di visitatori. Allora, voi cosa producete? Noi produciamo come divisione robotica all'interno di Comau, produciamo robot antropomorfi industriali. Ho visto alle tue spalle dei robot giocare a golf, sembra un qualcosa di inverosimile, invece succede una cosa divertente, ma sicuramente anche affascinante, vedo tantissima gente che si ferma ad osservarli, quindi ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta? Certo, in questa demo presentiamo due racer 7.1.4 in versione safe, che giocano golf integrando un sistema di visione che è capace di riconoscere la posizione della palla, prelevarla dalla buca o in prossimità della buca, qualora non sia finita nella buca stessa, per riportarla al primo robot che è quello che ha la mazza in mano per continuare in loop il gioco. Questi sono prodotti commercializzati oppure che andranno in commercio più avanti? Assolutamente sì, sono prodotti già disponibili sul mercato e presenti nel nostro catalogo, in particolare questa demo simpatica da fiera, allo scopo di enfatizzare l'aspetto che la robotica può essere anche collaborativa e sicura allo stesso tempo, integrando sistemi complessi, quali un sistema di visione dei software capaci di rendere semplice dell'operazione in realtà molto complicate. Chi sono i vostri clienti? A chi vi rivolgete? In particolar modo frequentiamo la fiera MEXP per rivolgersi al pubblico della General Industry, quindi un mercato che vede nelle piccole e medie imprese e anche ovviamente quelle grandi, laddove la robotica industriale possa essere un plus per ottimizzare i processi e rendere le aziende sempre più efficienti. Per quanto riguarda questo mercato, la robotica industriale, cosa pensa che possa essere il futuro? Comunque lo vede rose o comunque positivo? Assolutamente sì, la robotica industriale è un mercato che cresce costantemente in doppia cifra, in particolar modo uno dei trend principali è sicuramente la cooperazione uomo-macchina, la robotica senza barriere protettive e quindi un avvicinare l'operatore come co-worker di un robot antropomorfo sicuramente è una delle sfide importanti del prossimo futuro. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi.